Grazie a tutti, aiuterò a recuperare il tempo perché sarò brevissimo, non mi allargo con i complimenti per gli organizzatori perché sanno benissimo quant'è la mia stima e quanto ritenga importante questa iniziativa e quanto c'è il desiderio di continuarla e rafforzarla anche negli anni a venire perché è una di quelle iniziative dove i risultati si possono contare e si possono sostanzialmente misurare. L'unico punto e il consiglio che gli posso fare io è di evitare di fare le conclusioni di giornate come questa e soprattutto di affidare le conclusioni a uno come me, chiaramente, quindi si può anche fare a meno sostanzialmente delle conclusioni, tant'è vero che non farò delle conclusioni ma in pochissimi minuti alcuni pensieri sparsi per fissare alcune cose importanti che a mio parere vanno anche al di là del codice dei contratti pubblici e alcune tematiche di natura giuridica, alcune cose che sono emerse durante la giornata e che inviterei a fissare sostanzialmente perché sono collegati e hanno delle ricadute importantissime anche per una cosa che si chiama impatto sociale degli appalti pubblici e della committenza pubblica e effetti sociali della committenza pubblica perché non si tratta solo di un appalto di realizzare un'opera e di finirla nel tempo, significa anche che quell'opera ha un servizio sociale di solito, un'infrastruttura economica, un'infrastruttura sociale e vuol dire che qualcuno utilizza quell'opera nei tempi in cui la dovrebbe utilizzare e vuol dire anche nel regime fiscale e tributario in cui siamo adesso che quei lavori che vengono fatti in Sardegna parte di quelle risorse rimangono in Sardegna, se il soggetto che le realizza è sardo è perché paga le tasse in Sardegna e tutto questo rialimenta un sistema che sta pian piano diventando virtuoso. Quanto questo sia figlio di questa esperienza non lo sappiamo, sicuramente è figlio anche di questa esperienza, non ci interessa in questo momento la percentuale ma sappiamo che si è creata come diceva prima Gilberto una comunità di pratiche che invito anch'io a continuare a rafforzare e a costituire, una comunità di pratica che da questo punto di vista può contaminare ancora positivamente tutto questo tipo di esperienza. Due cose, uno il 2015 ha finalmente segnato l'inversione di tendenza sull'aumento delle risorse messe a gara, stiamo parlando di 3 miliardi, 3 miliardi sono il 10% del PIL della regione Sardegna, signori 3 miliardi è moltissimo da questo punto di vista e soprattutto in questo periodo. Com'è composto questo? Ve l'hanno fatto vedere stamattina e qual è l'importanza della regione Sardegna? Non so se l'assessore stamattina c'era l'assessore, sì se ve l'ha detto da questo punto di vista perché un miliardo è spesa sanitaria e spesa regionale, la regione in sé fa poco meno di 220 milioni di euro e un miliardo è il sistema degli enti locali e gli altri soggetti. Il sistema degli enti locali, vi dico solo il bando multilinea, chi viene da comuni sa di cosa sto parlando, è circa il 10% di queste risorse. È fondamentale quindi da questo punto di vista la mano e l'intervento regionale sia come soggetto chiaramente che finanzia i comuni e che finanzia e che bandisce direttamente, sia come soggetto che può anche da questo punto di vista determinare una serie di regole e facilitare l'accesso alle gare pubbliche. Aumenta, come dicevo prima, la giudicazione da parte delle imprese Sarde, siamo 64-65%, sto parlando di quantità di risorse e non di numero di gara che è la cosa sostanzialmente che mi interessa, che vuol dire che sono imprese Sarde, adesso non per fare campanilismo o per fare sciovinismo o per fare i francesi, ma sono imprese Sarde, col nuovo regime tributario sono tasse che vengono pagate in Sardegna, che vengono trasferite alla regione Sardegna e con l'ultimo comitato paritetico e con l'attuazione dello statuto assurdo verranno riscosse dalla Sardegna stessa. E anche questo è fondamentale perché non ci sono i vari passaggi e magari alcune risorse e poi non verranno più trasferite, ma tutti questi soldi, tutte le imposte indirette, tutto quello che nasce anche che rimane dal pubblico da queste tasse rimarrà in Sardegna e questo serve semplicemente per rialimentare questo sistema. E anche questo è fondamentale, più si vince, più delle risorse messe a gara in Sardegna rimane in Sardegna, più si possono fare ulteriori gare. Certo che l'auspicio è, io ricordo che tutta questa esperienza nasce per favorire l'empowerment dell'impresa, poi ci siamo trovati, sono trovati colleghi a un certo punto in cui il dialogo, la cooperazione, la concertazione ha esteso anche la formazione anche alle stazioni appaltanti, ma nasceva anche dall'ambizione che non è detto che un'impresa Sarda deve partecipare semplicemente alle gare Sarde, l'ambizione e l'auspicio è che le imprese Sarde possano competere sulla base di alcune caratteristiche di qualità, di certificazione e di saper fare anche alle gare a livello nazionale e alle gare a livello internazionale. E una delle esperienze che la Regione Sardegna ha portato avanti, che è quella che vi raccontava Gianluca Cocco sul GPP, dimostra che se un'impresa ha determinate caratteristiche, determinate certificazioni, determinate qualità, può partecipare e vincere gare in tutta Italia e in tutta Europa. E da questo punto di vista ci troviamo, come Regione Sardegna e come sistema dell'impresa Sarde in una situazione di vantaggio, perché questo tipo di esperienza, questo tipo di animazione, questo tipo di formazione che è stato fatto negli ultimi anni, non è stato fatto da nessuna parte in Italia. E le stazioni appaltante Sarde e l'impresa Sarde sono invidiatissime da tutti gli altri colleghi, dal resto dell'Italia. Secondo elemento, la situazione temporale è interessante, è interessante non nel senso cinese ma nel senso italiano del termine, perché ci troviamo di fronte a la pubblicazione, chiamiamolo decreto, chiamiamolo codice dei contratti pubblici, chiamiamolo come vogliamo, che avrà tutte le difficoltà, però c'è, di questo dobbiamo tener conto, che alcuni elementi positivi ce li ha se abbiamo il coraggio di sfidarli. Ho sentito parlare del partenariato per l'innovazione, che è una cosa, certo, non lo sa nessuno perché nessuno l'ha mai fatto, deriva già da quelle norme del 2014, però è interessantissima da questo punto di vista. Credo che Vincenzo l'abbia già studiato, perché gli abbiamo chiesto di stressarlo sostanzialmente, ci sono alcuni elementi all'interno del codice dei contratti che bisogna affrontare. Prima lo si affronta, prima lo si interiorizza e meglio è. Io avevo contatto 40 atti attuativi, poi il Presidente del Tram mi dice 50, da questo punto di vista la cosa che bisogna fare è presidiare questi atti attuativi, non per poterli incidere nella fase, ma per poterli comunicare e dare un'informazione strategica allo stato dell'arte. E quindi questo è uno degli elementi importanti, dobbiamo accompagnare la implementazione di questa normativa e lo possiamo fare con gli strumenti sostanzialmente di questo simili allo sportello appalti e simili ai corsi di formazione che stiamo facendo. Secondo l'ulteriore elemento, lo dico sempre e continuo a dirlo, che è l'atteggiamento per quanto mi riguarda opportunistico. Io ero direttore del centro regionale di programmazione e autorità gestione da una settimana, ormai nel 2008 è passato troppo tempo, diciamo così, e il primo atto ufficiale che mi arrivò dalla Commissione Europea era un audit sugli appalti pubblici in cui contestava circa 2 miliardi di euro di gare fatte dalla regione Sardegna. Sostanzialmente il nostro programma era stato messo sotto accusa insieme alla regione Lazio, c'erano scelto due regioni, una purtroppo era la nostra, l'avessero fatto in Italia sarebbe stata uguale in tutta Italia perché c'era un disallineamento completo tra la legge Merloni in quel periodo e le direttive sugli appalti. E chiaramente da questo punto di vista non si può pretendere che l'ufficio tecnico del comune di Pompu, chiedo scusa se c'è il comune di Baradili, che è il più piccolo della Sardegna, se allora avessi avuto un geometra, che fosse a conoscenza che la legge Merloni era disallineata con alcuni articoli delle direttive comunitarie perché non si faceva un elemento e in ogni gara d'appalto non si metteva l'elemento dell'interesse della rilevanza comunitaria dell'appalto, cioè in ogni gara si doveva scrivere verificato che non c'è una rilevanza comunitaria anche nell'acquisto dell'irisme di carta. Beh, quello ci ha messo a rischio l'intero programma 2000-2006, circa 2 miliardi e rotti di appalti pubblici e di servizi, con un taglio finale di quel programma, un taglio forfettario proposto dalla stessa autorità di gestione, di 200 milioni di euro. Cioè noi per l'irregolarità negli appalti nel periodo 2000-2006 abbiamo perso 200 milioni di euro, soldi spesi, opere realizzati, servizi acquisiti, ma per irregolarità negli appalti non abbiamo potuto rendicontare sostanzialmente e neanche abbiamo potuto recuperare questi soldi dalle stazioni appaltanti, chiaramente, perché la proposta dell'autorità di gestione per salvare il salvabile era di un taglio forfettario, vi taglio il 10% di tutto e facciamo un condono tombale. È chiaro che non posso tagliare il 10% per tutto perché non posso fare un addebito formale a nessuno da questo punto di vista. Da cosa nasceva quell'elemento? Nasceva da scarsa formazione, nasceva da scarsa informazione, nasceva da una proliferazione di stazioni appaltanti, perché concentrare le centrali di committenza vuol dire anche concentrare e aumentare le competenze, non è detto che il trasferimento di dirigenti o la circolazione dei dirigenti vuol dire semplicemente che quello che fa gli appalti lo metto a far uscire gli autobus, non c'è dottor Castagna, lo posso mettere a fare gli appalti in un altro comune, semplicemente, o in un'altra unione dei comuni. Ci sono alcuni elementi, per quello dico bisogna leggersi la norma, bisogna interpretarla come diceva Gianluca Cocco, bisogna cercare di prendere il buono perché non possiamo cancellarla da questo punto di vista e dobbiamo fare in modo che le intuizioni che sono lì dentro poi possano essere però applicate in maniera intelligenti. Io dico è vero c'è il ruolo dell'agenzia anticorruzione, già pensare un'agenzia anticorruzione ti dà una serie degli elementi, però in Italia abbiamo avuto la commissione stragi, quindi abbiamo visto di tutto, visto quello, abbiamo visto tutto, mi pare solo in Slovenia ci sia stata una commissione stragi e lì c'era una guerra, anzi la chiamavano commissione stragi di Stato, addirittura, è una cosa fantastica. Però è a un Robespierre che è il magistrato Cantone, però dopo Robespierre è arrivato il direttorio e poi si è tornati a una situazione di normalità, però devo dirvi la sincera verità, l'agenzia è collaborativa, l'agenzia ragiona, la regia dà in alcuni elementi quello che manca sostanzialmente nelle gare d'appalto che è la certezza, alcuni elementi di certezza, alcune interpretazioni le dà e queste sono utilissime. Che cosa diavolo fosse il soccorso istruttorio? Chi di voi da poco? Io ho perso le ultime cause al TAR per il soccorso istruttorio perché escludevamo chi non metteva la carta d'identità, normalmente chi non mette la carta d'identità era escluso, no. Col soccorso istruttorio invece devi chiedere a tutti, gli devi dare dieci giorni di tempo, quella roba è stata chiarita con l'autorità dell'anticorruzione. Stiamo lavorando con l'autorità, grazie alla PISO probabilmente stamattina vi ha detto quali sono alcuni elementi nei nuovi programmi comunitari. Uno si chiama la condizionalità ex ante, gli appalti pubblici sono un elemento fondante, prima che la Commissione europea ti trasferisca le risorse tu devi realizzare alcune condizioni, le chiamano così con le terminologie, una di queste è avere una regolamentazione, un'organizzazione adatta agli appalti pubblici, se non ce le hai i soldi non te li do, non è che ti do i soldi e poi tu Regione Sardegna ti accorgi che hai commesso delle regolarità sulla Pardi e perdi 200 milioni per non perdere le 2 miliardi, mi devi dimostrare prima che sei in quelle condizioni e quello è un elemento che si sta lavorando e concentrato e lo sportello appalti è uno dei nostri elementi di forza nei confronti della Commissione europea per dire ci stiamo organizzando, stiamo facendo, stiamo cercando di fare un'azione di empowerment a favore delle stazioni appaltanti e delle imprese, stiamo migliorando decisamente sul sistema e sulla regolamentazione degli appalti perché chiaramente l'occhio di bue è il faro e puntato su una regione come la nostra che è in questo audit. Secondo c'è un elemento con cui stiamo lavorando anche con l'autorità che si chiama piano di rafforzamento della capacità amministrativa che è un altro elemento dove la Commissione europea dice le cose che abbiamo visto nella gestione dei passati programmi è che siete scarsi, non avete una serie di competenze, le competenze che avete sono mirate nel posto sbagliato, fatevi un piano con le risorse della programmazione comunitaria per rafforzare la vostra capacità amministrativa, direttamente connessa a chi ha la responsabilità di gestire i programmi. Da questo punto di vista quindi anche su questo, per arrivare anche a elaborare delle linee guida che possono aiutare chi si occupa di anticorruzione a non diventare un Robespierre. Anche perché voi Robespierre sappiamo alla fine che ha fatto e non ci piacerebbe farlo fare anche agli altri. Quindi la cosa che vi posso dire è che è vero che c'è questo pericolo, che è vero che c'è questa funzione che ci fa paura in questo momento soprattutto chi è abituato a lavorare, chi è abituato a prendere decisioni, a farle col perfetto buonsenso che dovrebbe essere la prima regola e che si trova sempre da un certo punto di vista il rischio dell'abuso d'ufficio, perché l'abuso d'ufficio ormai lo si applica in qualsiasi modo. Quindi da questo punto di vista diciamo è vero che c'è questa situazione dobbiamo avere la capacità di applicare quelle norme, di interpretarle nel modo migliore possibile senza che noi stessi ci ingueiamo con le stesse. Quindi l'esempio che ho fatto è quello del principio di rotazione. Sarebbe interessante un accordo tra tutte le unioni dei comuni che hanno centrali di committenza che dai corsi cinque anni, laddove ci sono dei settori critici si possa rotare a fargli fare le stesse cose. O l'esperto che è formato alla Bocconi magari viene all'assessorato dei trasporti e l'esperto dell'assessorato dei trasporti va dal CTM o al comune di Cagliari semplicemente cambiando, non facendogli perdere quella funzione e quello specialismo, ma facendolo fare da un'altra cosa. Poi siamo nella situazione in cui un dirigente solo, che cosa fa? Ruota su se stesso 360 gradi e torna nel posto che aveva. L'altra grande sfida che amiamo, oltre al codice dei contratti con rischio di blocco, io capisco benissimo il direttore del comune di Milano e certo ci troviamo in un'altra situazione fondamentale adesso e questa è la grande sfida che abbiamo che stanno perdendo tutti i programmi comunitari. Per il classico elemento che ti fa andare lungo una programmazione che si chiama 1420 parte realmente nel 2016, nel 2016 sta partendo il programma operativo FES di cui vi ha parlato Graziella Piso stamattina, però sta partendo il mutuo infrastrutture che ha dotato la regione Sardegna, sono 700 milioni di euro per i prossimi quattro anni, sta partendo e credo che sarà firmato a brevissimo il patto per la Sardegna col governo centrale per l'utilizzo del fondo sviluppo e coesione, così si chiama, risorse nazionali per un ulteriore miliardo e mezzo. Stiamo mettendo in circolo strumenti con cui peraltro col CTM abbiamo lavorato benissimo che è l'iniziativa Jessica, stiamo rimettendo in circolo un'altra cinquantina di milioni di euro, quindi nei prossimi anni ci saranno anche risorse importanti, per non parlare del piano Sulcis con tutte le gare, quasi 600 milioni di euro che stanno andando a gara pian piano tutti proprio in questi mesi, quindi c'è anche la possibilità di concentrare una massa di risorse importanti e questa è anche la sfida che ci aspetta a noi tutti amministrazioni e a noi imprese, la sfida è quella di utilizzare al meglio queste risorse garantendo almeno questi risultati. L'altro elemento che abbiamo e dobbiamo mettere in circolo e l'ulteriore elemento che dobbiamo inserire in un approccio di questo tipo è quello della qualificazione delle imprese, a brevissimo credo sarà pubblicato il repertorio dei servizi, l'albo dei servizi reali, perché poi quando parliamo di imprese che si devono qualificare di cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando tanto di investimenti, stiamo parlando di formazione e stiamo parlando di servizi reali sostanzialmente, se si ha bisogno di un professionista, se si ha bisogno di una certificazione, le certificazioni costano e su questo devono essere indirizzati gli aiuti che vengono dati alle imprese, il repertorio, l'albo dei servizi sarà aperto, cioè ogni qual volta servirà un servizio aggiuntivo che viene ritenuto necessario dalle imprese potrà essere inserito con un mero atto amministrativo, questo è soft law, non quella del decreto come viene chiamato. Se riusciamo a unire, la prossima frontiera è questa, guardo Vincenzo. La prossima frontiera è questa, unire non solo questo tipo di politica, che permettimi e non è diminuirla, è politica passiva, comunicazione, informazione, unire una politica attiva attorno a queste esigenze che emergono dal sistema delle imprese, dal sistema delle pubbliche amministrazioni, creare immediatamente i servizi che possono essere attivati, con forme estremamente semplici, se pensa alle imprese pensa ai voucher, non devi presentarmi, devi presentarmi l'esigenza, ti do un voucher, te lo spendi dove diavolo vuoi per avere quel tipo di competenza, mi porti solo il risultato, non mi porti le fatture, tanto per essere chiaro, così anche per la pubblica amministrazione, collegare a un progetto, un'esperienza di questo tipo, anche possibilità di amministrazione attiva che possa andare direttamente a cogliere quei risultati laddove emergono. Detto questo, signori, grazie di tutto e arrivederci alle prossime.